Partito in questo istante, Lazio curto Il passaggio è davanti, go, 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 Tommaso verso Hernanes, Tommaso verso Hernanes E la rete del brasiliano, Lazio 1, Udinese, niente, quando basta soltanto un minuto, 27 secondi La Lazio passa in vantaggio, è il vantaggio che ci voleva per aprire in bellezza questa sfida all'Udinese Sotto la curva nord con l'impeto del pubblico della Lazio Va Mauro, Mattias e Sarade sulla bandierina che divide la nord dalla Montemario La ricorsa di Maurito, il cross alto per tutti, non per 10 E' il go, 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 Beppe, 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 Biava E' ancora lui, sta diventando un goleador, sta diventando un goleador Giuseppe e Biava, 2 a 1 della Lazio, tutti in city, la Lazio non è in vantaggio La Lazio in aria parte il cross e mezzo 3 a 2, 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 l'azia in vantaggio Libor, Kozak la vostra vincente Libor, Kozak e la razza vola la razza vola la razza vola Kozak Go Libor, Libor Libor, Libor Libor Libor, Kozak il colpo di testa il colpo di testa e l'incornata di Libor Kozak per dire Lazio 1 Sannoria niente riparte la Lazio riparte la Lazio il vantaggio di Kozak la penna di Nadesma e l'incornata Libor Kozak dice voglio la Lazio voglio restare la Lazio sottolineare soprattutto lo schieramento tattico dei pugliesi è un vero e proprio 4-1-2 talvolta 4-4-2 con Ventivoglio largo a sinistra e al profeta la scaraventa alle spalle di Jean-François Gillette per dire Lazio 1 pari niente e il vantaggio della Lazio lo stava cercando la formazione di Ecco Celeste di Edireia Hernanes l'ha messa alle spalle di Jean-François Gillette una botta di prima sul passaggio l'assist di Giuseppe Sculli intelligente anche il movimento del giocatore siciliano ex Genova bella la finalizzazione di Hernanes con una staffilata alle spalle di Jean-François Gillette Lazio 1 pari niente e rientriamo in diretta per un ooo del pubblico che vogliamo condividere con tutti voi assegnato Palacio 3-3 Rodrigo Palacio il terzo gol del Genoa una rimonta incredibile da Zene sentitelo il modo dell'Olimpico vale Insteiner avanza l'Itt è il culo lebedico sotto l'auto di testa senza la verticezza del rigore lo scambio con Brocchi parte l'Insteiner pronto al cross la chiusura e c'è il gol del Genova incredibile scusate ma ve lo devo dire ma ve lo devo dire da 3-0-4-3 ma ve lo devo dire è incredibile l'unica cosa buona che ha fatto Ballardini l'unica cosa buona che ha fatto Ballardini incredibile dal Marassi incredibile e tutto lo stadio è in delirio lo stadio olimpico è completamente in delirio e lo stadio è in delirio ha ragione ha ragione Spadoni la Lazio ride sorride si diverte gioisce Genova 4 Roma 3 Lazio 1 Bari 0 e continua la volata bianco celeste goela calma gai ma test shock saic pelic romano i te sargi assi gai e i pi mara e e gai e il 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 gl gai gai i pi e e gai e 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 Grazie a tutti.